Buonasera amici di Telemolise, ben trovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. A Isernia oggi è stato il giorno della rabbia e della speranza, i sentimenti che ormai accompagnano i lavoratori delle aziende a rischio chiusura a causa della crisi e la protesta dei dipendenti della ITR ha coinvolto anche quelli della GAM e di esattorie affiancati da decine di studenti che hanno scioperato in segno di solidarietà. La manifestazione che ha attraversato le vie del centro anche tanti sindaci della provincia. Il racconto della giornata è in apertura con Enzo Di Gaetano. Non dormire, in Morise sai morire! Città paralizzata a Isernia per la preannunciata manifestazione dei dipendenti ITR capeggiati dai sindaci della provincia. Centirai alle persone che nonostante la pioggia abbattente si sono radunate in piazza della stazione per poi proseguire in corteo fino all'auditorium dove hanno parlato i sindaci e i rappresentanti dei lavoratori e dei fasonisti. La lunga fila dei manifestanti ha attraversato tutta la città lanciando il suo grido di protesta e la sua disperata richiesta di aiuto per una vertenza occupazionale che partendo da Isernia e passando per Boiano si sta trasformando in una vertenza sociale e anche politica, se politica vuol dire stare vicini alla gente e soprattutto ascoltarla. E il segnale che viene da Isernia è preoccupante. Il capologo Pentro potrebbe diventare il detonatore di una imminente mobilitazione regionale. Sul palco dell'auditorium di Isernia un messaggio preciso, il Molise non deve morire. Ma mentre i sindaci c'erano tutti e mentre c'erano gli studenti e lavoratori di ITR, Satori e GAM a captare questo messaggio, dispiace sottolinearlo, non c'era nessun esponente della regione, né di maggioranza né di minoranza. 21 rappresentanti eletti dai molisani che hanno scelto di non esserci, di non vedere e di non sentire. Ancora una volta il segnale allarmante di come il palazzo, quello del potere politico, scelga deliberatamente di restare distante dalla gente, dalle famiglie, dalla disperazione di tante persone che non sanno cosa mettere a tavola o non possono far studiare i loro figli. Il Molise sta scoppiando e Isernia, come Boiano, ne può diventare la miccia. Ma sentiamo le voci della protesta che abbiamo raccolto sotto una pioggia battente che però non ha assolutamente raffreddato gli animi della gente che da questa mattina ha aperto una pagina nuova nella storia sociale e politica del nostro Molise. La presenza dei sindaci e soprattutto la presenza dei sindaci con la fascia tricolore è un fatto importante. Importante perché noi siamo qui per testimoniare la situazione di grande criticità del nostro territorio. È una questione forte su un'area di crisi che è quella evidente del Molise, partendo dalla Gamo, passando per l'ETR fino a Metameccanico, a Venafra e tutte le altre realtà, in modo tale che il Governo nazionale ci dia quegli strumenti per provare a rinascere. Anche noi rappresentanti dell'Alto Molise risentiamo di questa situazione di crisi e quindi è importante che uniti, partendo dal sindaco di Sernia e il sindaco di Venafra, riusciamo ad aprire un tavolo tecnico di confronto su tutta la pente. Noi stiamo a fianco ai nostri lavoratori e non riusciamo a capire come mai questi settori in questa provincia trovano grandissima difficoltà, anche se sappiamo benissimo come riferiscono gli addetti ai lavori, che le richieste ci sono, quindi il mercato tira e non capiamo perché in questa nostra provincia il Governo e chi è addetto al servizio non faccia quello che deve fare. È un problema di difendere una situazione veramente molto grave, quella delle nostre aziende e del nostro territorio, quindi è importante che venga dichiarato lo stato di crisi per la nostra terra in modo tale che possano arrivare risorse importanti per riavviare questa macchina economica. Sì, anche il guerriero Sannita è sempre vicino a Popera, la sua terra. Noi crediamo che il polo Tessile non possa morire. Questa manifestazione riguarda anche e soprattutto noi del Tessile, siamo qui per gridare a tutti di darci una mano, al Governo centrale di riconoscere quest'area come un'area effettivamente di crisi. Metà della mia vita è passata in quelle mura e ora ci troviamo in questa situazione veramente disastrosa, vediamo, oggi ci siamo mobilitati in tanti, un ringraziamento particolare dagli altri sindaci della provincia, speriamo si riesca a risolvere qualcosa, ad attrarre l'attenzione su una provincia che ormai è in totale decadimento. Ma noi quello che preme più di tutto è tenere alto il livello di attenzione su una realtà importante, ricordiamo l'ITR essere il polo più importante produttivo di questa terra oltre che una grande eccellenza nel settore Tessile. Ma la mobilitazione continua, prossimo appuntamento a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dove mercoledì 29 sarà affrontata ancora una volta la vertenza ITR. E dalla protesta di Isernia, quella dei produttori di barbabietole che chiedono al vertice dello zuccherificio di saldare i conti arretrati, ma anche qui a prevalere la tensione e l'orizzonte tutt'altro che il roseo, ce ne parla Manuela Iorio. Quattro ore per un incontro dai toni molto accesi e che per il momento non trova nessuno soddisfatto, soprattutto i bieticoltori che aspettano ancora il saldo bietole del 2013 che ammonta a 4 milioni e 800 mila euro. Allo zuccherificio del Molise si sono riuniti intorno a un tavolo il manager Alberto Alfieri, l'ingegner Nicola Baranello che ha avuto una procura speciale dalla regione, insieme all'assessore all'agricoltura Vittorino Facciolla e alle associazioni di categoria. Fuori in una lunga e amara attesa, loro, i principali fornitori di materia prima dello zuccherificio, i bieticoltori, senza le loro bietole non si produrrebbe lo zucchero. C'è chi avanza 10 mila ma anche 20 o 30 mila euro. Lei da quanti anni è fornitore qui allo zuccherificio? Qua sarà da quando hanno chiuso a Foggia, se no sempre a Foggia sono 50 anni che produciamo barbapietro. Purtroppo non si possono più andare avanti a questo sistema perché i pagamenti allungono, poi non ci pagano. A me mi hanno convinto a mettere le barbapietre l'anno scorso, io le ho messe quelle primaverili. Pagamenti, 50% e basta, è finito lì. Ci hanno promesso a dicembre, forse ci dicono a fine gennaio, però stiamo qui per vedere se ce li danno questi soldi. Lei quanti soldi aspetta ancora dallo zuccherificio? A me saranno una decina di mila euro. Dalla riunione si porta a casa solo un risultato, che entro il 30 gennaio, questa la data imposta dalle associazioni, ai coltivatori bisognerà pagare una tranche di 2 milioni e mezzo di euro, senza ulteriori ritardi. E dei 2 milioni e 300 mila euro ancora da pagare, Alfieri ha chiesto un abbuono di 1 milione e 600 mila, con il pretesto che il prezzo dello zucchero nel frattempo è calato. Ovviamente le associazioni non ci stanno. Molto delusi, perché non ci aspettavamo dopo un anno e dopo aver promesso che ci sarebbero stati il saldo delle bietole prima di Natale, a quello che ci è stato detto, cioè che le bietole non potranno essere liquidate al 100% perché c'è un problema di bilancio della nuova zuccherificio del Molise. Il prossimo incontro è stato fissato per il 30 alle 14.30 presso lo zuccherificio e noi chiediamo il pagamento di un ulteriore acconto di 2 milioni e mezzo che ci è stato promesso entro il 30 e discuteremo anche del futuro, cioè noi abbiamo ribadito il concetto che vogliamo entrare nella gestione dello zuccherificio perché non ci fidiamo più di come è stato condotto fino a oggi. E pertanto abbiamo detto all'assessore Facciolla di prendere atto di questa nostra richiesta e aspettiamo il 30 per avere una risposta in questa direzione. Ma intanto alcuni addetti ai lavori fanno notare che dietro le quinte della riunione si è parlato di una gestione diretta dello zuccherificio dei bieticoltori che dovrebbero rilevare l'attuale società. Questa ipotesi, dicono a mezza bocca, farebbe comodo a frattura perché si toglierebbe il peso di un'altra società partecipata dalla regione sapendo che le quote zucchero nel 2017 verranno liberalizzate. E nel pomeriggio a Boiano, nuova seduta del Consiglio Comunale per parlare della grave situazione della GAM. Durante i lavori il sindaco Silvestri ha annunciato di aver sospeso il pagamento dei tributi comunali nei confronti dei lavoratori in difficoltà e ha chiesto al prefetto di Campobasso di assumere un provvedimento analogo. In Consiglio invece è stata avanzata la proposta di chiedere a Roma l'apertura dell'area di crisi per le zone di Boiano, Isernia e Venafro. E ora la pagina politica con l'accelerazione impressa oggi da Silvio Berlusconi che dopo aver scelto il direttore del Tg4, consulente politico per il programma ha nominato poi una serie di commissari nelle varie regioni per Forza Italia. In Molise arriva l'ex ministro Gianfranco Rotondi. Il servizio è di Marta Martino. E mentre a Campobasso il centro-destra si prepara alle primarie del 9 marzo per scegliere il candidato sindaco, Forza Italia sforna nuove nomine a livello nazionale. Silvio Berlusconi ha provveduto a designare i suoi nuovi uomini di fiducia all'interno del partito. Gianfranco Rotondi sarà il commissario per la regione molise, Enrico Lillo, presidente del Comitato regionale del Trentino Alto Adige, Alessandro Cattaneo, responsabile della formazione degli amministratori locali, Andrea Mandelli, responsabile dei rapporti con le professioni, e Giovanni Totti, direttore del Tg4 e ovviamente dimissionario dall'incarico, consigliere politico per il programma. Ringrazio il presidente Berlusconi della fiducia mostrata nell'affidarmi il compito di commissario di Forza Italia nella regione nella quale egli stesso è stato eletto prima deputato e poi senatore. Spero di essere all'altezza dell'esperienza e della passione civile degli amici del Molise. Queste le prime parole a caldo del neocommissario Rotondi, che in passato ha visitato il Molise in diverse occasioni e che ha legato il suo nome alla battaglia per il simbolo e il nome della democrazia cristiana. Già una sentenza del 2005 aveva concesso al movimento di Rotondi la democrazia cristiana per le autonomie, fondato dopo l'uscita dall'Udc e di cui Rotondi diviene segretario politico alleandosi con la Casa delle Libertà per le Politiche del 2006, la denominazione del partito storico della Prima Repubblica che ha avuto però l'aggiunta della parola autonomia per distinguerlo dal partito di Sandri che nasceva in quel periodo. Si stabilì poi per il simbolo che il partito che poteva usarlo era l'Unione dei Democratici Cristiani di Centro nel quale erano confluiti i cristiani democratici uniti di cui Rotondi era tesoriere e proprio perché lui ne chiese l'uso nel 1995 all'atto della Costituzione del CDU e fu ciò ad ispirare la Costituzione del partito di Piccoli, Pizza e Alessi. Nel 2006 Rotondi viene eletto senatore, candidato nelle liste di Forza Italia e nel 2008 viene eletto nelle liste di coalizione del centro-destra di Silvio Berlusconi. Nel 2009 entra con il suo partito nel Popolo della Libertà. Parliamo ora del Partito Democratico dove invece sono già cominciate da tempo le grandi manovre che si concluderanno con il voto per la segreteria regionale. Le tre componenti del PD sono tutte al lavoro e dunque è probabile che si arrivi a una sfida con tre candidati. Giovanni Minicozzi. La direzione regionale del PD ha stabilito le regole per le primarie del prossimo 16 febbraio che eleggeranno l'Assemblea e il segretario del partito. Come già deciso a Roma, saranno primarie aperte e potranno partecipare sia gli iscritti sia i simpatizzanti previa sottoscrizione di un documento di condivisione dei principi etici e politici del PD. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 20 di sabato 25 gennaio e gli aspiranti al Vertice dovranno essere sostenuti da almeno 150 firme di iscritti certificati. Il 16 febbraio saranno delle primarie aperte intanto per tecnica estrapolata dal contenuto del regolamento e pensiamo comunque che sia un momento estremamente costruttivo per il PD. Veniamo fuori da un lungo processo di primarie tenuto nel corso di fine anno 2013 e si andrà a rinnovare con questa elezione praticamente tutta la classe dirigente anche quella regionale. Nel PD anche a livello nazionale ci sono frizioni, diciamo così, dopo l'accordo con Berlusconi tra Renziani e Cuperliani, Dallemiani e via dicendo. Qual è la situazione del Molise invece? Attualmente ancora non registriamo quello che c'è in campo nazionale, non riusciamo ancora a viverlo nella nostra realtà, sicuramente perché la nostra è una realtà assolutamente più piccola e dimensionata su parametri anche di organizzazione del partito inferiori e minori, però insomma il dibattito a livello nazionale sicuramente ci interessa perché significa capire dove va il partito, quindi è un dibattito assolutamente interessante e poi voglio dire anche la chiusura, ecco le frizioni più grosse oggi ci sono sulla nuova legge elettorale, lì speriamo che si chiuda in modo unitario, del resto la mia lettura, ma è una lettura assolutamente personale, le distanze non mi sembrano enormi, importanti ma non enormi. E nel Molise il congresso del 16 sarà un congresso unitario o ci saranno spaccature? Ebbè, intanto se ci dovessero essere una, due o tre candidature o quattro non è una spaccatura ma è un segnale di assoluta vivacità, tant'è che il regolamento prevede più candidature. Ovviamente questo aspetto lo chiariremo definitivamente il giorno 25 alle ore 20 quando scadrà il termine ultimo per la presentazione delle candidature al segretario regionale. A dire il vero, da più parti è stata sollecitata una candidatura unitaria per non incrinare ulteriori l'unità interna, ma la quadratura del cerchio al momento appare difficile. Ai nastri di partenza infatti sono pronti almeno tre aspiranti segretari, la renziana Michela Fanelli sostenuta da Paolo Frattura, il coordinatore del gruppo Civati Michele Di Giglio e il candidato dei Cuperliani, Rute e Leva, tenuto ancora nascosto. Dunque il braccio di ferro tra Paolo Frattura, Roberto Rute e Danilo Leva continua. L'attribuzione di un numero, ovvero la registrazione di un ricorso, non implica alcuna decisione positiva o negativa sull'ammissibilità del ricorso riguardo la legge Severino. È quanto precisa il cancelliere della Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo in riferimento all'iter del ricorso presentato da Marcello Miniscalco, segretario regionale del Partito Socialista in Molise, contro l'esclusione subita alle ultime elezioni regionali del 2013. C'è stata una manifestazione di protesta, cambiamo argomento, questa mattina davanti al Tribunale di Campobasso. Emilio Izzo ha manifestato contro una giustizia che ha detto non è uguale per tutti. Il riferimento è all'inchiesta che coinvolge il questore di Campobasso, Giancarlo Pozzo. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. Ha scelto il Tribunale di Campobasso per protestare contro una giustizia che dice non è uguale per tutti. Emilio Izzo, sindacalista della Wilbac, ha organizzato una conferenza stampa proprio davanti alla sede del Palazzo di Giustizia per chiedere chiarezza sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il questore di Campobasso Pozzo, accusato di abuso d'ufficio e favoreggiamento personale nei confronti del presidente della regione Frattura. Nel mirino di Izzo la decisione del procuratore capo d'Alterio di affiancare al PM Fabio Papa, titolare dell'inchiesta, un altro magistrato. Una decisione che, come noto, ha indotto lo stesso Papa a rinunciare all'incarico. Da qui la protesta di Izzo che solleva molti dubbi sull'intera vicenda. Nel cartello che lei espone a un certo punto c'è scritto alla fine per la casta quasi impossibile trovare un giudice, figuriamoci una condanna. A cosa si riferisce? Mi riferisco innanzitutto a quello che succede sempre. Non è che abbiamo bisogno di questo caso per capire che la casta è protetta da sempre e lo dimostrano i fatti. Oggi c'è un caso per me altrettanto clamoroso. C'è un magistrato che sta conducendo le indagini su un alto funzionario dello Stato. C'era il magistrato Papa che stava indagando anche su alcune questioni che riguardavano l'attuale presidente della regione, in qualche modo sembrava coinvolto anche la questura con il suo massimo responsabile questore. Insomma, sta di fatto che di colpo il procuratore capo decide di affiancare a chi sta conducendo l'indagine un altro magistrato. E, guarda caso, il magistrato che stava portando le indagini si tira indietro. Insomma, la chiave di lettura mi sembra ovvia. Significa che quel magistrato ha capito che rispetto a quella cosa non poteva andare avanti. O qualcuno dovrebbe dire il contrario. Devo immaginare che Papa non risponde alle aspettative di D'Alterio o Papa non risponde alle aspettative di qualcuno che evidentemente si sente minacciato da queste indagini. Alla fine della conferenza stampa è arrivata anche una volante della polizia e un agente chiesto a Dizzo di fornire le proprie generalità. Emilio Dizzo. Io non vi conosco, a me mi mandano interventi e sono tenuto a venire. Un cittadino per legge deve comunicare alla questura qual è l'iniziativa che portava. Ma io non le sto dicendo nulla. La mia iniziativa la può portare tranquillamente. No, perché significa che lei venendo qui deve accertare le identità di tutti quelli che stanno qua. No, lei sta manifestando, a me mi hanno chiamato. La mia manifestazione è pubblica, è già dichiarata, non devo essere accertato io. Non devo essere accertato, lo dice la legge. Io devo comunicare cosa faccio. Come la legge dice che io al richiesto di un pubblico ufficiale hai tenuto a darmi le tue indicazioni. Io ho detto, ma perché proprio a me? E lei sta qua manifestando, io chiedo a lei. Dopo l'identificazione e la gente se ne va, Izzo resta davanti al tribunale. Qual è la tua iniziativa? Si parlerà dello spopolamento dei piccoli comuni e dell'emergenza rifiuti tossici durante un incontro promosso dal Movimento 5 Stelle in programma domani sera ad Acquaviva di Isernia. Oltre ai consiglieri regionali e ai parlamentari grillini, interverrà Enzo De Leo del Comitato della Terra dei Fuochi. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore della serata, Luca Ciummo. Sentiamo. Fare breccia anche nei piccoli comuni. Con questo obiettivo il Movimento 5 Stelle approda ad Acquaviva di Isernia, paese di poco più di 400 abitanti. L'appuntamento è per domani nella sala consigliare del comune a partire dalle 18. È prevista una grande affluenza, a maggior ragione perché gli ospiti sono a 5 stelle in tutti i sensi. I temi della politica nazionale saranno affrontati con i parlamentari Angelo Tofalo e Gianluca Castaldi, mentre si parlerà delle problematiche locali con i consiglieri regionali Antonio Federico e Patrizia Manzo. L'obiettivo è quello di accendere un faro sui piccoli comuni molisani, dove troppo spesso chi li abita e ne mantiene vive le tradizioni viene continuamente vessato da aumenti di tasse. Altro argomento che sarà trattato durante la serata sarà quello dello spopolamento dei piccoli comuni. Visto che è un problema molto grave che riguarda tutta la regione molise, essendo anche io uno dei ragazzi costretti a lasciarle la propria terra, soprattutto per motivi di lavoro. Durante l'incontro sarà affrontato anche un altro tema attuale che riguarda da vicino il territorio molisano, l'interramento dei rifiuti tossici, come testimoniano le recenti indagini condotte dalla DDA di Campobasso e dalla procura di Isernia. Se ne parlerà con il giornalista Paolo De Chiara e con l'attivista della Terra dei Fuochi Enzo De Leo. Parleremo di rifiuti perché quello di rifiuti è un tema che ha coinvolto anche la provincia di Isernia e quella sera chiederemo che una zona compresa dal comune di Acquavale di Isernia e il comune di Forli, chiamata Colle Buono, venga posta all'attenzione dei presenti e inserita come zona da controllare, se anche in quella zona siano stati sversati dei rifiuti. È una delle incompiute della nostra regione, è una storia di decenni quella che ha attraversato la Fondovalle del Rivolo non ancora completata. Torna allora a far sentire la propria voce il comitato che si batte per la strada che collega Campobasso alla Bifernina. È vergognoso, ha scritto in una nota Giovanni Sardella, aver fatto passare altro tempo senza che l'opera sia completata. Ricordo, ha aggiunto Sardella, che il presidente della provincia Rosario De Matteis si era impegnato a completare i lavori a maggio 2013, siamo arrivati a febbraio e la situazione non ha ancora un'evoluzione certa. C'è l'impegno della regione per velocizzare le procedure e i pagamenti e completare la ricostruzione post terremoto. E' questo il risultato venuto fuori dall'incontro tra i sindaci del comune del cratere, il presidente Frattura, il consigliere Salvatore Ciocca. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Un percorso condiviso tra sindaci, regione e agenzia di protezione civile per dare impulso al completamento della ricostruzione post terremoto. Questo l'esito dell'incontro che si è svolto tra gli amministratori dei comuni del cratere, il governatore Paolo Frattura e il consigliere Ciocca, dopo l'ultimatum lanciato dagli stessi sindaci che hanno denunciato innumerevoli ritardi e impegni non rispettati, diverse le soluzioni individuate per quanto riguarda gli stati di avanzamento dei lavori non saldati, l'impegno si lega alla verifica della copertura di tutti gli interventi già finanziati e quindi al successivo pagamento delle spettanze, verifiche anche per i decreti firmati sulle risorse assegnate dall'allora commissario delegato, prima della delibera Cipe del 2011 per la copertura di casta dei lavori già realizzati ed o effettuare, hanno inoltre affermato i sindaci, la regione stanzierà nell'ambito degli spazi finanziari del patto di stabilità 60 milioni di euro per il 2014. Si valuta anche la possibilità di inserire dopo i controlli i progetti edilizi non indicati per errore o per finanziare quelli già avviati che risultano senza relativi impegni di spesa nel bilancio dell'Agenzia. Sul tavolo poi l'annunciata modifica della legge che ha istituito l'ente strumentale della regione. Due, le ipotesi, quella di modificare la norma oppure un regolamento attuativo da concordare con i sindaci per continuare le attività nei vari comuni. Gli amministratori hanno inoltre chiesto alla regione di poter contare sulla disponibilità di personale assunto direttamente dai comuni che consiste nell'attuale dotazione di circa 50 unità. Altri temi, dalla messa in sicurezza degli immobili alla manutenzione dei villaggi, sono stati rinviati a breve tanto che i sindaci del cratere hanno concordato con il presidente Frattura e il consigliere Ciocca un incontro mensile da tenersi in giunta regionale. Duro colpo, inferto dai carabinieri al traffico di droga tra il Basso Molise e San Severo, raffica di denunce e tre arresti domiciliari. Sentiamo alla Maria Di Matteo. Operazione in codice BUDD, che in gergo vuole dire roba. La roba in questione è la droga, quella che dalla Puglia, da San Severo, arrivava nelle piazze del Basso Molise. L'hanno chiamata così l'operazione. I carabinieri della compagnia di Larino, che coadiuvati dai colleghi del nucleo investigativo di Campobasso, hanno denunciato 13 persone ed arrestato tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 33 anni, recuperate anche diverse dosi di eroine, circa 100 grammi di altre droghe. Spaccio di sostanze stupefacenti l'accusa per tutti, mentre ad alcuni dei tre arrestati, attualmente ai domiciliari, viene contestato anche il reato di estorsione. Le indagini coordinate dalla procura di Larino erano partite nel marzo del 2011 sulle dichiarazioni rese da un ragazzo, vittima degli spacciatori, che usavano ogni mezzo per ottenere il pagamento della droga, minacce anche di morte. Ma non solo, una ragazza, una tossicodipendente, era stata costretta a prostituirsi perché non aveva il denaro per pagare la droga. L'operazione dei carabinieri ha stroncato un giro che avrebbe potuto ramificarsi e rafforzarsi ulteriormente sul territorio molisano. Nell'area frentana siamo riusciti ad intervenire con la conclusione di questa indagine che ha dato come esito la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari di tre persone molisane di 23, 25 e 33 anni, nonché ci ha consentito di effettuare una massiccia operazione con 10 perquisizioni stamattina tra l'area basso molisana e quella alto foggiana. Nel contesto è stato possibile intervenire nell'ambito del traffico degli stupefacenti delle nostre zone e riteniamo in effetti che possa aver inferto un colpo abbastanza significativo al fenomeno. Alcune delle vittime hanno avuto il coraggio, trovate il coraggio di rinunciare, quindi il vostro appello è sempre lo stesso, rompere il muro di omertà. Assolutamente sì, anche per coloro che effettivamente sono assuntori l'appello accorato rimane lo stesso, di superare il muro di omertà, il muro di timore nell'ipotesi in cui soprattutto i trafficanti e gli spacciatori dovessero poi passare a vie di fatto, vie che possono essere la minaccia o addirittura le violenze, a non temere, sarà comunque sempre più efficace pur rischiando, certo, questo me ne rendo conto, l'eventuale segnalazione per essere degli assuntori, però insomma ci consente certamente di poter entrare in maniera più efficace negli schemi dei sodalizi che danno luogo al traffico. La squadra mobile di Isernia ha denunciato per furto aggravato in concorso due persone residenti in città, entrambe di 35 anni. Sono ritenute responsabili di un colpo ai danni di una sala scommessa. I due ladri sono stati individuati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. La mobile continua a indagare per verificare se vi siano responsabilità da parte dei due denuncianti anche per altri furti analoghi commessi a Isernia. In seguito ai controlli nei cantieri del Venafrano, i carabinieri del comando provinciale di Isernia e del nucleo ispettorato hanno sequestrato quattro immobili in fase di realizzazione senza concessioni edilizie, mentre in altri quattro cantieri è scattata la sospensione dei lavori perché sono state violate le norme sulla prevenzione degli infortuni. Individuati anche lavoratori in nero. Il bilancio complessivo parla di 10 persone denunciate a piede libero e multe per 20 mila euro. Il valore delle strutture dei cantieri sequestrati ammonta a un milione di euro. Cambiamo argomento e parliamo di crisi economica. Anche il settore editoriale sta vivendo un periodo difficile. A sottolinearlo è il presidente dell'Ordine dei giornalisti Antonio Lupo in occasione della festività di San Francesco di Sales, patrono proprio dei giornalisti. Ce ne parla Marcella Tamburelli. Crisi, disoccupazione, licenziamenti, esuberi, cassa integrazione. È una sintesi triste ma reale del nostro presente. Non esiste oggi un settore produttivo che non abbia addosso il peso della spada di Damocle della crisi. Dall'ITR alla gamma fino allo zuccherificio, passando per tante altre realtà e arrivando fino all'editoria. Televisioni locali e carta stampata stanno vivendo uno dei periodi più difficili che la storia possa ricordare. A sottolineare le difficoltà che l'editoria molisana sta vivendo, Antonio Lupo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, nella giornata dedicata a San Francesco di Sales, vescovo e patrono dei giornalisti. San Francesco ha saputo comunicare il Vangelo con la straordinaria semplicità del linguaggio giornalistico, ha detto il presidente Lupo, sviluppando un modello di vita cristiana, attento alle esigenze delle persone comuni immerse nelle difficoltà quotidiane. Un messaggio che risulta di estrema attualità. La nostra categoria, infatti, insieme a tutta la società, ha aggiunto ancora Lupo, sta vivendo un fortissimo disagio legato alla crisi economica. In occasione della giornata dedicata a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, ha commentato ancora il presidente dell'Ordine, ci piace sperare nella ripresa economica di tutti i settori, compreso il nostro. Con la speranza che la regione approvi come promesso, entro febbraio, la legge sull'editoria, per ridare rispiro ai tanti giornalisti molisani, oggi in difficoltà, e alle loro aziende. Questo, ha concluso Antonio Lupo, è anche l'augurio del nostro vescovo Bregantini, che ogni anno, in occasione della festività di San Francesco, ci manifesta la sua vicinanza. E anche nella curia di Termoli, il vescovo ha incontrato i giornalisti, in occasione proprio della festa di San Francesco di Sales. Secondo Monsignor De Luca, le recenti notizie di cronaca, riguardanti il presunto caso di pedofilia Porto Cannone, spronano a un maggiore dialogo e confronto con gli organi di comunicazione. Il vescovo ha poi ricordato le parole di Papa Francesco e il ruolo che i nuovi strumenti tecnologici possono avere nell'incontro e nell'ascolto dei problemi, anche se Facebook, ha precisato, non può certo sostituire il confessionale. De Luca ha quindi indicato ai giornalisti del Basso Molise il valore guida della libertà intesa come coscienza, intelligenza e capacità di rapportarsi con gli altri nella ricerca della verità. E ora parliamo di spettacoli con l'attesissimo concerto di Stefano Bollani, presentato oggi a Campobasso. In due ore, pensate, i biglietti si erano già tutti esauriti. L'appuntamento è in programma al Savoia per martedì sera. Ce ne parla Enzo Luongo. Appoggia le dita sui tasti ed è subito magia. Sale sul palco e non sa mai esattamente cosa farà. Passa dal Brasile al jazz, dalla musica degli anni 40, fino al Bissa richiesta, dove mescola dieci brani come fosse un DJ. Il grande talento di Stefano Bollani arriva in Molise per un concerto che è un evento già da giorni. I biglietti sono andati esauriti in appena due ore, con il pubblico di buon mattino già in fila davanti al botteghino. E mentre il pianista, che è uno degli artisti italiani più amati e celebrati del mondo, faceva registrare l'ennesimo sold-out della sua carriera, al palazzo della Ex-Gil gli organizzatori presentavano il suo concerto di martedì prossimo a Campobasso, un concerto promosso dalla Fondazione Molise Cultura e dall'Unione Lettori Italiani. Per il Savoia è un ritorno agli antichi fasti, allo stesso tempo un modo per presentarsi in una veste inedita. Bollani con il suo piano sarà infatti al centro, circondato dal pubblico. Il teatro sarà al massimo, ci saranno complessivamente 540 posti, 140 in più del solito. Entusiasta il governatore Paolo Frattura, che ha parlato dell'arrivo di questo straordinario artista come di un punto di partenza, di una nuova era per il Savoia. Il presidente ha poi anche sottolineato l'impegno messo in campo per tenere il costo dei biglietti a livelli più bassi rispetto alle altre città, da 20 a 40 euro. Anche Brunella Santoli dell'Uli si è augurata che la serata evento con Bollani possa essere l'inizio di un nuovo corso per la cultura a Campobasso e in Molise, mentre il consigliere delegato alla cultura, Nico Ioffredi, ha anticipato che sono in cantiere diversi altri eventi importanti. L'ultima edizione del telegiornale di Telemolise termina qui. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buonanotte. Grazie. 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 Grazie.